Vamo a giornissimo mondo! Ragazzi come state? Siete belli carichi? Ah ma oggi ragazzi ci saranno tante tante novità! Allora mischiero un pochino, quindi parleremo sia del programma sia del lavoro perché ci sono persone che sono interessate al percorso e ci sono persone che sono interessate all'ambito lavorativo quindi per chi è interessato al lavoro guardate un po' per voi cosa c'è Se è interessato al nostro mondo lavorativo oggi è la grandissima opportunità di poter partecipare a una Zoom con i nostri grandissimi livelli E invece ritorniamo a noi, chi è che è interessato al percorso? Ragazzi questo mese è il mese, è il mese vostro, è il mese che si deve dire sì, inizio perché guardate un po' anche qui ci sono belle novità e belle sorprese per voi Amore dimmi tu che vita è, oh dove sei andata, oh mi sei mancata E parte la cosa